Parliamo adesso con l'allenatore campione d'Italia degli Beretti, Sergio Zanetti. Sergio, una bella soddisfazione vincere il titolo nazionale, poi tra altre cose con una squadra di tutti i 94. Sì, guarda, io sono fierissimo, sono contentissimo per il gruppo soprattutto. Un gruppo che viene già da tanti anni lavorando insieme, questo è merito della società, di tutto lo staff. Sicuramente è stato un anno bellissimo, sono convinto che loro ci teniano tanto a far vedere che anche loro possono fare un certo livello di gioco. Abbiamo dimostrato in tutto il campionato che possiamo giocare a calcio e per fortuna sono molto contento. C'è stata anche una grande presenza da parte della società, c'era Samadain, c'era Bedi Moratti, c'era Ausilio, insomma anche i massimi dirigenti della società sono attaccati al settore giovanile, ci tengono? Sì, ci tengono tantissimo, mi ha fatto complimenti anche il Presidente che ci siamo sentiti dopo Andrea Stramarcioni che parte della prima squadra di tutti, il mio fratello con tutti i suoi compagni, quindi questo è sicuramente un campionato vinto di tutti, anche e soprattutto un anno un po' speciale per l'Inter, sicuramente tirerà fuori tutto quello che daremo anche di qua e questi ragazzi sono il futuro dell'Inter, sono convintissimo. Invece parlando dal punto di vista tecnico, che qualità hai visto in questa squadra e cosa hai fatto vedere quest'anno? Guarda, io quando ho preso la squadra ad agosto ho capito che non potevo fare altrettanto che giocare a calcio, perché ho ragazzi di tantissima qualità, solo dovevo farle capire che non è soltanto la parte di fase di possesso, sino anche uno si doveva sacrificare per recuperare e per continuare a giocare a calcio come sappiamo farlo. Loro l'hanno interpretato in un modo perfetto, siamo riusciti a fare grandissime prestazioni e questo ci ha dato la possibilità di arrivare in finale e dimostrare che giocando a calcio dopo, prima o poi, avrai la possibilità di dimostrare che uno riuscirà a vincere in un certo modo per loro e per tutti quanti, perché è giusto che facciano questo campionato, che è molto impegnativo e che si possano divertire. Hai accennato prima al gruppo, insomma anche se hai visto adesso fino a partita, hai cambi, tutti i giocatori venivano a salutarti, ti hanno anche fatto saltare in mezzo a loro, questo è testimonianza insomma che sei riuscito a entrare in contatto con loro e creare un feeling eccezionale. Sì, io sono convinto che parte tutto di lì, se tu riesci a fare un gruppo compatto e unito, riuscirà a vincere tante cose. Sono stato semplicemente, sono stato leale con loro, sono stato chiarissimo dal primo giorno e loro hanno capito che dall'altra parte c'era una persona che si potevano fidare, quindi c'è stato un feeling che io sono orgoglioso e fierissimo di questo gruppo. Grazie.